Grande successo per la serata delle fonti awards, tenutasi lo scorso giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle fonti awards si è concentrata sul mondo legale e d'impresa, con un particolare focus sul settore HR. Categoria Avvocato dell'Anno, boutique di eccellenza, diritto penale ambientale. Il premio quest'anno è assegnato ad Angelo Leone, studio legale Leone. La vasta preparazione in materia ambientale, l'accuratezza e la qualificata competenza nell'applicazione delle leggi non di controversia fanno dell'Avvocato Angelo Leone un professionista di spicco sul piano etico e giuridico, portandolo ad essere uno degli Avvocati più affermati nel diritto penale ambientale. Avvocato Angelo Leone, founder dello studio legale Leone, riceve il premio come Avvocato dell'Anno, boutique d'eccellenza per il diritto penale ambientale. Come ha accolto questo premio? Beh, ovviamente i premi si accolgono sempre con molto piacere. Siamo lusingati, devo ringraziare tutti i nostri assistiti che ovviamente hanno creduto in noi, nel nostro lavoro e ci hanno consentito di raggiungere questo importantissimo risultato e i riconoscimenti sono sempre ovviamente graditi. Così come mi permetta di ringraziare i miei collaboratori che con me lavorano tutti i giorni e ovviamente hanno portato la nostra realtà ad essere sì una boutique specializzata in diritto penale, in particolare nelle varie branche del diritto penale speciale, ambiente, responsabilità amministrativa 231, così come diritto societario e fallimentare o la responsabilità medica. Per cui insomma io veramente voglio condividere con i nostri assistiti e i miei collaboratori questo veramente riconoscimento che ci lusinga. Avvocato, ci faccia entrare nel suo studio, ci racconti come siete strutturati e quali sono le principali practice su cui siete focalizzati? Allora, l'attività dello studio è prevalentemente l'attività di diritto penale, dalle indagini preliminari alla fase esecutiva e anche alla fase successiva, quella dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Nel tempo abbiamo acquisito una particolare competenza, come dicevo, poc'anzi, in branche del diritto penale che necessitano di una particolare competenza e specializzazione, che sono il diritto ambientale, la responsabilità amministrativa degli enti, così come il diritto societario e fallimentare e la responsabilità medica. La nostra struttura è una piccola struttura, noi abbiamo particolarmente a cuore i nostri assistiti che vengono assistiti con un rapporto personale. Il nostro motto è al centro i vostri diritti, cioè nel senso che mettiamo veramente al centro, oltre alle questioni che in qualche modo portano la nostra attenzione, è proprio la persona assistito che viene seguito ovviamente mano per mano. Ci faccia conoscere il diritto penale ambientale, anche alla luce di tutto il dibattito attuale sulla tutela dell'ambiente, quanto è attuale la disciplina su cui è specializzato il vostro studio? Beh, allora sì, il nostro, diciamo anche, se così posso dire, core business dello studio è il diritto ambientale. Il diritto ambientale che è molto attuale, come diceva lei, ma anche molto giovane e trasversale. Perché dico giovane? Perché il diritto ambientale vede il corpus iuris importante nella nostra legislatura nel 2006, con il testo unico ambientale, ma fa ingresso la parola ambiente nella nostra Costituzione solo nel 2001, nonostante i nostri padri costituenti avessero concepito il nostro testo costituzionale con una vision molto innovativa per quel tempo. Però solo nel 2001 la parola ambiente entra nel testo costituzionale, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione che delega agli enti territoriali le competenze, tra cui anche quella sull'ambiente. Quindi dicevo molto giovane, ma anche trasversale, perché è un diritto che in qualche modo riguarda più branche, va ad abbracciare più branche del diritto civile, amministrativo, penale. Oggi si parla molto di diritto ambientale, nel momento in cui si parla di grossi processi, grossi disastri ambientali che in qualche modo vengono trattati dai media. ultimo, l'ILVA, per esempio, l'ILVA in questo periodo, noi ci siamo come studio occupati negli ultimi 15 anni dei più grossi processi penali celebrati qui in Lombardia, per esempio Calchitaeggi, Santa Giulia, di cui lo studio si è occupato, con risultati molto interessanti per i nostri assistiti. Lo posso dire perché ormai sono sentenze passate in giudicato, per cui ne possiamo parlare tranquillamente. Avvocato, lei parlava di una disciplina trasversale. Un'altra grande area di vostra attività è quella della responsabilità amministrativa degli enti. In che modo lavorate in questo ambito? Tra l'altro la responsabilità amministrativa degli enti è molto concatenata con il diritto ambientale, perché la responsabilità amministrativa degli enti, o anche detta responsabilità parapenale degli enti, le società, è la responsabilità in cui incorrono le società nel momento in cui non si dotano di un modello organizzativo efficace che tenga indenne la società da quelle che sono le responsabilità soggettive dei singoli. Provo a spiegarmi meglio. La società nel momento in cui si dota di un modello organizzativo e inserisce nella propria organizzazione dei protocolli che evitano che la responsabilità soggettiva del singolo possa avere ripercussione sulla società, nel momento in cui dovesse il singolo sbagliare, la società rimane fuori da quella responsabilità che rimane solo per il soggetto singolo. Oltre ad un modello organizzativo efficiente, noi ci occupiamo anche della fase successiva, la fase in cui un organismo di vigilanza vigila che il modello organizzativo venga sempre aggiornato e sia effettivamente efficace perché non è semplicissimo. I modelli organizzativi più complicati per le società sono proprio quelli che riguardano le società che si occupano di ambiente, per quel motivo, perché noi abbiamo un, come dicevo, un corpus iuris molto giovane e che spesso è di difficile interpretazione e le interpretazioni sono spesso intersecano varie professionalità, quella dell'avvocato, ma c'è anche l'ingegnere, il geologo che comunque dà un parere tecnico e consente all'avvocato di in qualche modo tradurre quei valori di cui sentiamo parlare nel momento valori troppo alti di quello o quell'altro inquinante e vengono tradotti in presidi che evitano che le società possano incorrere in problematiche che poi, come dicevo prima, individuano una responsabilità parapenale perché ovviamente la società non è quella che risponde penalmente del fatto, ma ne risponde indirettamente nel momento in cui questo modello non è efficace ed efficiente. Avvocato Leone, abbiamo capito che il vostro lavoro è in un ambito estremamente delicato, anche per voi, come per tutte le categorie professionali, sarà molto importante formarvi continuamente? Beh sì, allora assolutamente noi come avvocati abbiamo la formazione obbligatoria, ma io oltre a fare formazione, perché anche per me e per noi dello studio è necessario, è necessaria la formazione, noi facciamo formazione. Io ho iniziato a fare formazioni subito dopo la laurea, da ufficiale dei carabinieri facevo formazione alla scuola allievi carabinieri ausiliari e da allora non ho più smesso. Nel 2015 da consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano ho chiesto che l'Ordine si potesse dotare di una commissione di diritto ambientale, che oggi è punto di riferimento istituzionale per tutti coloro che si occupano di diritto ambientale, non solo, organizza ogni anno un corso di formazione in diritto ambientale, è uno dei pochissimi corsi completi in questa materia, perché coinvolge avvocati e tecnici, così come pubblici ministeri e magistrati su un tema che ovviamente ancora, come dicevamo, necessita di interpretazioni che possono essere lette in maniera univoca. Oltre a questo io con Camera di Commercio di Milano mi occupo di organizzare anche eventi formativi per le imprese.